Da un giorno all'altro, alle sei e mezzo di mattina, vedersi portare via non è facile, poi con brutti modi anche. Un vero e proprio incubo, quello vissuto nel 2015 da Alessandro Valentino all'epoca dei fatti minorenne. Una sua coetanea lo aveva accusato di stalking e minacce. Nel giugno di tre anni fa si è visto piombare in casa all'alba sette carabinieri che dopo la perquisizione lo hanno portato via. Il giovane innocente ha scontato due mesi in comunità e uno agli arresti domiciliari. Tutto aveva avuto inizio da una denuncia per violenza sessuale che la ragazza aveva sporto nei confronti dell'ex fidanzatino. Secondo la giovane poi Alessandro ed altri dieci ragazzi l'avrebbero minacciata per difendere chissà il loro amico che era finto nei guai. Nelle accuse c'è scritto che sono andato nella sua scuola prima dell'apertura di scuola a portargli una bottiglina d'acido e mettergliela sul banco per fargliela bere e magari ammazzarla. Tutto falso è stata una perizia sui messaggi minatori materiale che la mamma della ragazza aveva depositato a smontare questo castello di carta. Secondo il giudice Massimiliano Signorini del Tribunale dei Minori di Firenze la ragazza si era inventata tutto anche la violenza sessuale. Perizia che in maniera tombale ha accertato come in realtà la persona offesa abbia falsificato in toto attraverso applicazioni internet e quant'altro i messaggi che le sarebbero arrivati. Il procedimento per ingiusta detenzione di certo non restituirà ad Alessandro i tre mesi della sua vita. Bisogna stare sempre lì con il timore, ormai questi social sono più pericolosi di quanto si possa pensare. Se oggi sono qui davanti a giornali, televisioni è per farmi giustizia morale, non giustizia con lo Stato.